Diciamo che a seguito di tutte le presentazioni di oggi tiro un po' le fila di tutta la teoria, nel senso che vi faccio calare un po' nella pratica. In che senso? Io sono in qualche modo un'osservatrice privilegiata di Infanzia e Infilici, citando Cancrini, e inizio con il portarvi delle considerazioni. Converrete con me che stiamo vivendo in un periodo storico molto complesso, le cui complessità si ricadono in qualche modo sugli aspetti sociali e anche relazionali e a cascata sul mondo educante al quale tutti noi apparteniamo. Ma tale condizione come influisce sui nostri ragazzi? Io vi parlo del processo di soggettivazione, che sostanzialmente è il passaggio dall'infanzia all'età adulta. È un passaggio che tutti noi abbiamo dovuto compiere per poter arrivare all'età adulta. Ed è un processo che nella normalità avviene, sì, magari non in modo particolarmente lineare, magari con delle difficoltà, però tutto sommato le criticità vengono governate. Ma quando questo non succede? Quando in realtà i nostri ragazzi non riescono a portare avanti il processo di soggettivazione? Cosa accade? E spesso dietro a questo passaggio effettivamente c'è un agito di bullismo, di cyberbullismo. Allora, io parto proprio per poterci un po' addentrare. Vorrei prima di tutto sfatare qualche mito, che secondo me è importantissimo. Tre miti proprio un po' base. Il fatto che gli ormoni impazziti facciano andare fuori di testa i nostri ragazzi in realtà non è vero, nel senso che il passaggio dell'adolescenza è un momento molto molto delicato. È un momento in cui c'è un'attivazione cerebrale, la nascita... non si sente? La nascita di... sicuramente di... è un periodo di grandi modifiche, quindi assolutamente non è che crei follia nei nostri ragazzi. Non è una semplice fase di immaturità, perché è un periodo storico in cui nella nostra vita noi siamo chiamati a sperimentarci, a gestire i limiti. È un momento molto delicato. E ultimo, che non è un passaggio, perché questo secondo me forse è il falso mito che più hanno anche i nostri ragazzi nella loro mente, quello che si passi dalla dipendenza all'indipendenza completa. Invece in un buono sviluppo non si passa all'indipendenza completa, ma è un'interdipendenza, perché nessuno di noi è indipendente totalmente, avulso dalla società. L'adolescenza è il momento in cui noi, in qualche modo, ci troviamo allo specchio e ci troviamo a dover rispondere per la prima volta alle domande in qualche modo fondamentali, no? Chi sono? Dove sto andando? La mia vita può essere degna di essere vissuta? E in questo spazio, quindi nel processo di soggettivazione, noi siamo chiamati a portare avanti, per poter riuscire a diventare adulti consapevoli, a portare avanti quattro compiti evolutivi. La separazione e l'individuazione, che vuol dire staccarsi, sganciarsi da modalità e relazioni che caratterizzavano la nostra infanzia. Poi, costruire mentalmente l'immagine del nostro nuovo corpo, perché gli adolescenti ovviamente sono, c'è la nascita di forme fisiche, di bisogni differenti, la sessualità che si attiva, la nascita di propri valori, per cui loro sono sempre alla ricerca continua di riuscire a identificarsi, quindi ci sono i valori della loro famiglia, ma anche quelli che loro cercano di costruire. E poi la costruzione di nuovi legami affettivi e sociali. Adesso proviamo a calarci all'interno delle modalità operative che vengono portate avanti all'interno del territorio di Torino, nella gestione di ragazzini che invece questo percorso evolutivo, questo processo di soggettivazione, in qualche modo non sono riusciti a portare avanti e si sono bloccati, in qualche modo lo hanno interrotto. Allora io vi porto un esempio di una ragazzina che è arrivata al mio servizio territoriale, ovviamente il nome è un nome fittizio, di fantasia, arriva nel 2016, secondo genita, 15 anni, terzo liceo scientifico di un buonissimo liceo scientifico molto noto in città, una buona famiglia, un ottimo rendimento scolastico. Improvvisamente in apparenza quindi una ragazzina serena senza nessun tipo di problema, improvvisamente inizia ad affacciarsi il ritiro scolastico, quindi fatica ad andare a scuola, improvvisamente inizia a fare uso di sostanze stupefacenti, prima qualche birra, poi qualche canna, inizia a tagliarsi e poi si affacciano anche i pensieri suicidari. Molto più in là nel tempo si scoprirà che parte del suo malessere è legato sia a degli atti di cyberbullismo ma anche a degli atti di bullismo che poi si sono concretizzati nella vita reale. A questo punto entrano in gioco degli attori per poter gestire la situazione di questa ragazzina, oltre a quelli che lei aveva già prima, quindi oltre alla sua famiglia. Prima di tutto entra in campo Regina Margherita perché la famiglia porta questa ragazzina all'atto del tentato suicidio, riescono a fermarla e a portarla a Regina Margherita. Dopo il ricovero vengono coinvolti l'ASL, città di Torino con la neuropsichiatra di riferimento, la psicologa, la psicoterapeuta perché lei aprà poi nel progetto sia qualcuno che si occupa di lei sia qualcuno che si occupa dei genitori e l'assistente sociale. A questo punto veniamo anche coinvolti noi come servizio, mettiamo in campo sia un educatore individuale che farà dei passaggi a casa con questa ragazzina e anche una struttura all'interno della quale lei si potrà confrontare con vari ragazzi che hanno una storia simile alla sua. E poi ultima, ma non per importanza, la scuola perché lei finalmente dopo qualche mese riesce a ricominciare ad andare a scuola e si costruisce una buonissima collaborazione con la scuola all'interno della quale lei inizia ad andare un'ora al giorno a scuola, progressivamente l'aumento delle ore scolastiche arriverà poi nel giro di un anno ad andare regolarmente a scuola. Le prime volte io dovevo, almeno per un paio di mesi, io dovevo stare fuori in macchina perché era l'unico modo in cui lei si sentissera assicurata e poter partecipare alle ore scolastiche. Quindi dal 2016 al 2019 noi ci ritroviamo con una ragazzina di 18 anni che quindi salutiamo perché poi passa i servizi per adulti, che sta frequentando la quinta del liceo scientifico, ha nuovamente un ottimo rendimento scolastico e ha di nuovo una progettualità di vita. Quindi comunque è un progetto che è durato qualche anno. In questi anni, oh no, mi manca una slide. Vabbè, nella pratica cosa è successo? Cos'è che ha dato realmente, cos'è che ha fatto sì che questo processo di soggettivazione di cui parlavamo prima sia riuscito a riattivarsi? Che cos'è che l'ha aiutata in questo passaggio? Sicuramente una grande attenzione capillare sul suo benessere e quindi una presenza costante delle persone, sia gli educatori che erano accanto a lei, ma anche un contatto diretto sempre con la neuropsichiatra. Una buona rete è riuscita sostanzialmente a portare avanti questa sua... insomma, questo progetto ha fatto sì che questa ragazzina oggi abbia un passaggio dalla psichiatra una volta ogni due mesi, ma che sostanzialmente stia bene. Io in questi cinque anni di servizio, quattro anni di servizio sul territorio, devo dirvi che un buon 90% dei ragazzi seguiti così, con grande fatica e flessibilità da parte di tutti i soggetti di prima, quindi tutti noi, insomma, si è riuscito veramente a ottenere dei buoni risultati. Quindi non tanto, noi non lavoriamo tanto sulla prevenzione ovviamente, però devo dire che il 90% sempre dei miei ragazzi o ha subito o ha agito atti, sia di bullismo e di cyberbullismo. Ormai molto di più il cyberbullismo, perché è molto più fruibile, per cui quello... Adesso, per concludere, molto velocemente vi faccio vedere un video di pochi secondi, che secondo me è molto significativo, è leggero, ma è significativo sul messaggio che io vorrei lasciarvi, nel senso che io credo molto sul fatto che passare la palla sia fondamentale e quindi creare rete sia l'unico modo per poter gestire davvero le difficoltà dei ragazzi di oggi. Ci tengo soltanto a sottolineare che passare la palla non deve essere un delegare. Ognuno di noi nella sua professionalità è fondamentale che metta in campo la propria professionalità e che la condivida e che come adulti ci prendiamo la responsabilità di crearla questa rete, perché è l'unico modo per portare avanti i nostri ragazzi. Grazie.